Senatrice Licia Ronzulli, ricordo, Ronzulli è Presidente della Commissione Parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. La soluzione al problema. Ha lavorato lei a un disegno di legge per rafforzare i controlli per quanto riguarda i servizi sociali. Cosa prevede? Sì, direi addirittura per limitare lo strapotere dei servizi sociali. Perché parla di strapotere? Perché in questo momento decidono in modo del tutto arbitrario cosa fare. Quindi se scrivere le relazioni, come scriverle, dove affidare il bambino, se in casa e in famiglia piuttosto che a famiglie affidatarie. In questo momento decidono loro. Quindi ci sono leggi in Italia adesso che ormai non sono più antistoriche, sono anacronistiche e vanno riviste. Ci sono troppi spazi aperti e in un contesto del genere è necessario dare dei confini così ognuno sa cosa deve fare e non c'è margine di errore. Purtroppo dove ci sono falle a volte si annida il malaffare. E la giornalista diceva giustamente c'è una questione di soldi. Molto probabilmente c'è una questione anche di business dietro all'affidamento dei bambini. Grazie.